buongiorno oggi 11 agosto la chiesa ricorda santa chiara d'assisi la mica del poverello il francesco oggi il vangelo ci invita a farci piccoli come l'infinitamente piccolo come le piccole sorelle di san damiano davvero il signore ci dice se non ritornerete come bambini non entrerete nel regno dei cieli e poi ci racconta quella straordinaria parabola della pecorella smarrita nel cammino della vita anche se sbagliamo strada anche se ci allontaniamo dal signore egli è sempre pronto a venirci a recuperare come il buon pastore che si prende cura di tutte le sue pecore e dunque care amiche e cari amici andiamo avanti con fiducia certi che il signore ci ama immensamente grazie a tutti